La conclusione del discorso su quello che voleva essere la presentazione dell'Europa nei primissimi anni del secondo dopoguerra non può che passare attraverso una definizione più precisa di quella che fu poi la contrapposizione militare tra Est e Ovest nell'età della cosiddetta Guerra Fredda, andando poi a vedere un attimo più precisamente quali sono stati i primi passi del lungo, difficile, tormentato, non ancora concluso processo di unificazione politica dell'Europa partendo proprio da quello che è successo nelle regioni più occidentali, centro-occidentali del nostro continente. Ecco, ci si fermerà nei primi anni appunto di questa trasformazione, non so, andrà a vedere quelli che sono stati poi i successivi sviluppi alla fine della stessa Guerra Fredda, quando tutto sommato l'espansione sia politica che economica che culturale, diciamo così, dell'Europa è andata sempre più estendendosi verso Est, andando a riprendere tutti quei territori che prima cadevano sotto il controllo del colosso sovietico e che oggi in qualche modo l'Europa occidentale in un certo senso va a competere con quello che comunque rimane un elemento strano, avversario se vogliamo, dal punto di vista strategico internazionale che è la federazione russa. Oggi sappiamo come esempio molti di quei paesi che una volta appartenevano a un patto di Varsavia e oggi fanno parte dell'Unione Europea, come molti di questi sono entrati anche all'interno della Nato, che prima esisteva proprio come contrapposizione al mondo orientale, mentre oggi molti di questi paesi proprio per sfuggire all'orbita russa sono entrati all'interno anche dell'alleanza militare della Nato, e come questa contrapposizione politica militare ancora oggi esista, il caso appunto della questione ucraina, dell'embargo nei confronti della federazione russa, sono tutte questioni risolte che ancora dividono in realtà queste due parti del continente europeo, ma la situazione oggi lo vediamo anche nella carta attuale dell'Unione Europea, è ben diversa, molti di quei paesi che all'inizio, confrontiamolo con quella sinistra, non appartenevano all'Occidente europeo, erano neutrali o addirittura inseriti nel mondo del modello politico militare, economico e sociale sovietico, oggi sono parte integrante della nostra Unione Europea. Quindi noi ci fermeremo ad analizzare la situazione dei primi anni e i primi passi dell'Unione Europea. Si tratta allora quindi di andare a vedere chiaramente quali sono queste due alleanze militari. Prima di tutto il patto atlantico, la nascita della Nato, cioè il trattato dell'organizzazione del nord atlantico, che guidata appunto dagli Stati Uniti d'America andava ad unire tutti quei paesi del blocco occidentale politico-militare e contrapposto al blocco sovietico. Del 4 aprile del 1949 la firma del patto atlantico, in cui scopo appunto è una sicurezza collettiva, una difesa comune per la protezione attraverso appunto l'ombrello atomico garantito dagli Stati Uniti. Protezione da che cosa? Da questo possibile attacco militare, l'incubo atomico allora davvero molto forte. L'Europa sarà per decenni appunto un terreno di sconto senza mai avere una guerra vera e propria, ma in cui la presenza appunto sul campo, sul terreno di eserciti di stampo tradizionale da una parte e dall'altra era davvero molto numeroso, abbondante proprio il mantenimento di questi eserciti, che poi risultò impossibile da parte sovietica, che è una delle motivazioni che portò poi alla fine al crodo anche dell'intero sistema comunistico. Comunista sta di fatto che appunto armamenti, materiali strategici e così via, era un dato di fatto il possibile attacco militare da parte dell'Unione Sovietica era paventata come possibile dall'Occidente, patto atlantico garantiva in un certo senso da questo tipo di attacco. Chi compone appunto, quali sono i paesi che accettano appunto questa alleanza? era il trattato del Nord Atlantico, come si diceva prima. Quindi da un lato avevamo appunto paesi del Nord America, gli Stati Uniti in primis il Canada, dall'altra parte abbiamo, diciamo, i paesi dell'Europa occidentale, del blocco occidentale tradizionalmente, partendo dalla prima alleata storica appunto europea degli Stati Uniti, che è la Gran Bretagna, e poi i paesi del continente, cioè la Francia, la prima alleata, l'Italia, i paesi del Benelux, come si chiamano molto, cioè il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo, e poi altri paesi come la Danimarca, l'Islanda, il Portogallo, la Norvegia, cui poi successivamente, per problematiche di cui si era già detto in precedenza, si aggiungeranno la Grecia, la Turchia, e poi, anello finale, la Repubblica Federale Tedesca. Questi i paesi che in qualche modo facevano parte dell'alleanza militare, ma poi anche politica, sociale, economica, culturale, occidentale. Dall'altra parte, chiaramente uguale e contraria, non può che nascere appunto un'alleanza esattamente opposta, che doveva contrapporsi militarmente ed economicamente a questa nuova struttura che si veniva a creare, questa nuova Unione, alleanza che lentamente si doveva creare, quella militare si crea subito, quella politica, sociale ed economica, un qualcosa che è ancora in corso, noi bene lo sappiamo, le difficoltà dell'Unione Europea. Dall'altra parte, comunque, l'Unione Sovietica, stiamo dicendo, crea il blocco unendo tutte quelle repubbliche popolari, quella sovietizzazione forzata che si veniva a creare, e paesi dell'est Europa, di fatto, liberati, occupati, dalle truppe dell'Armata Rossa. Ecco che noi abbiamo allora, quindi, fin dall'inizio, un'alleanza, una, diciamo così, armonizzazione delle diverse economie, secondo il modello di economia pianificata, secondo il modello socialista, proposto appunto dall'Unione Sovietica, un consiglio di mutua assistenza economica, in realtà egemonizzato dall'Unione Sovietica, il come con risposta sovietica, appunto, della progressiva integrazione politico-economica dei paesi europei, vedremo dopo, legati appunto agli Stati Uniti. Lo scopo quello era quello di coordinare il rapporto e il processo di sviluppo economico tra l'Unione Sovietica, secondo appunto il modello privilegiato, l'economia pianificata, e le diverse abbiamo già chiamate democrazie popolari. Ricordiamolo, era un modello imposto. L'Unione Sovietica, anche quando non poteva permettersi di dare e basta, come invece in un certo senso gli Stati Uniti avevano fatto tramite il piano marcia, questo grande piano appunto di ricostruzione dell'Europa. L'Unione Sovietica non aveva questa possibilità, anzi doveva ricostruirsi dal disastro del conflitto della Seconda Guerra Mondiale e quindi era tutto un inizio a scambio economico. L'Unione Sovietica, molte volte, chiedeva, non dava questi ulteriori problemi, chiaramente, nei paesi dell'est europeo. Sta di fatto che poi con la crescente integrazione militare, il primo problema era quello, attraverso il patto atlantico, attraverso la Nato, sede Bruxelles, ancora oggi, ecco che anche i paesi dell'est europeo firmano un patto di assistenza militare che poi andò in vigore quando qualche paese è il caso, alla fine degli anni 50 dell'Ungheria, nei secondi anni 60 della Cecoslovacchia, proponevano dei diversi modelli alternativi. Lì intervennero le truppe sovietiche, le truppe del patto di Varsavia, impedendo ogni libero sviluppo. Quindi alleanza militare che controllava quello che era appunto il mantenimento di un tale sistema e teoricamente si difendeva, si indifendeva da quello che doveva essere appunto il suo nemico, il nemico occidentale. Quindi alleanza militare contrapposta, nasce subito dopo, chiaramente quello che è stato un atto aggressivo dal punto di vista politico, l'entrata della Repubblica Federale Tedesca della Germania occidentale all'interno dell'Anato. È chiaro che quindi bisognava rispondere in una maniera uguale e contraria. Funzionava così. Otto sono i paesi, l'Unione Sovietica, il paese dominante, la Bulgaria, la Ciccoslovacchia, l'Ungheria e la Polonia, la Romania e l'Albania, che poi in periodi successivi ebbe una diversa evoluzione, da questo punto di vista, così è l'alleanza con, diciamo così, il grande modello sovietico, e poi la Repubblica Democratica. La Repubblica Democratica Tedesca, scusateci che c'è un errore, c'è una Repubblica Federale Tedesca, ma si tratta proprio di un errore, da me compiuto dal punto di vista di stampa, la Repubblica Democratica Tedesca, ovvero sia la Germania Est, quella appunto con capitale Berlino, e due alleanze militari. Così le vediamo chiaramente, vediamo quindi ecco anche Repubblica Federale Tedesca, Repubblica Democratica Tedesca dall'altra parte, con appunto anche gli anni dell'ingresso dell'una e dell'altra all'interno delle due diverse alleanze. Vediamo, ricordo ancora una volta, come all'estremo nord, la Finlandia e la Svezia ne rimanessero al di fuori, come all'interno invece se ci spostiamo verso sud, la Svizzera tradizionalmente neutrale, l'Austria per la sua delicata questione, la Jugoslavia, paese socialista, ma autonomo, indipendente, fosse al di fuori di queste alleanze, come la Spagna, che entrò molto tardi, quando un sistema ormai democratico e liberale aveva sostituito il sistema franchista, dittatoriale, e non dimentichiamolo, come incuneandosi al di sotto, proprio controllando quello che era il patto di Versailles, il grande Stato sovietico, la Turchia tradizionalmente in capale avversare prima il grande impero ottomano, è da sempre uno degli elementi fondamentali col secondo esercito della Nato, venne strettamente integrata all'interno, diciamo così, almeno delle alleanze politico-militari occidentali. Lo è anche oggi, anche se la situazione è molto più complessa, molto più articolata, come una Turchia, che in qualche modo sta diventando potenza regionale, quindi svolge una sua politica estera-autonoma, non sempre in accordo con quelli che sono gli interessi del blocco occidentale, quindi anche i nostri interessi. Ecco che se questa è la situazione, adesso si tratta di andare a vedere come lentamente comincia a nascere, di fatto sono le lontane radici dell'attuale Unione Europea. In realtà un bisogno, un bisogno politico, un bisogno economico, oltre che militare, la ricostruzione dell'Europa, la ripartenza dell'Europa, in un mondo che già potremmo chiamarlo all'epoca globalizzato, anche se poi la vera e propria globalizzazione è molto più recente, però è ovvio, i piccoli Stati europei, se volevano ricostruirsi, non potevano farlo da soli, dovevano farlo all'interno di un mercato comune, più vasto, che unisse appunto tutti i vari Paesi europei, creando appunto un blocco unico, più libero, dove gli interscambi appunto di uomini, merci, idee, lavoro, di persone, potesse essere veramente libero, effettivo, altrimenti si è stato impossibile per piccoli Stati, i piccoli Paesi appunto del cosiddetto Benelux, Olanda, Viglio, Luxemburg, erano stati i primi a capire da soli, non si andava più da nessuna parte, era anche l'interesse statunitense, lo è stato per molto tempo, che l'Europa tutt'unita non la fosse soltanto militarmente, ma anche economicamente, per ricostruirsi più forte e potente di prima, per essere comunque ecco anche un grande mercato di sbocco di interscambio rispetto a quelle che erano appunto anche le grandi produzioni, la grande economia americana. Era quindi interesse dell'intero blocco occidentale che Paesi europei si unificassero per quanto possibile, unificassero i loro mercati per essere, diciamo così, dei protagonisti attivi all'interno appunto di un mondo globalizzato. L'inizio, ecco la data, 5 maggio 1949. Siamo a Strasburgo, in realtà, noi lo sappiamo ancora oggi come certe località a cavallo del fiume Reno, in realtà, che è un po' il cuore dell'Europa, tra Francia e Germania, a este e a ovest del Reno, Bruxelles, Strasburgo, l'AIA, sono i centri anche delle principali, principali istituzioni europee da un lato e dall'altra parte, potremmo dire, a este del Reno, e beh, la BCE, Francoforte. Questi sono i cuori e nuclei fondamentali dell'Europa ancora oggi. 5 maggio 1949, sede a Strasburgo, nasce il Consiglio d'Europa, l'unione, in qualche modo, di tutti i Paesi europei, una sede dove tutti i governi europei potevano trovarsi, riunire, a parlare, per fare che cosa? Salvaguardare e promuovere il patrimonio comune ed ideale e lo sviluppo economico e sociale dei Paesi europei. Chi comincia a farne parte? Italia, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Belgio, l'Andalusso Bucco, oggi, oggi è molto più ampio anche il Consiglio d'Europa, ma qua si pongono semplicemente le basi, un qualcosa di ideale, culturale, ma anche economico e sociale, è chiaro, economica è un elemento fondamentale. L'Italia riuscì a trarne enormi vantaggi senza questo processo di unificazione, primi passi di questa unificazione, il boom economico, il grande scatto a cavallo tra gli anni 50 e 60, il decollo industriale d'Italia che ha fatto finalmente diventare l'Italia una potenza industriale, non più un Paese povero, arretrato con grandi differenze rispetto alle potenze principali, è dovuto anche a questo processo di unificazione europea, che comincia con che cosa? 18 aprile 1951, unificare alcuni elementi che erano fondamentali all'epoca per la ricostruzione industriale, la ripartenza produttiva ed economica, il carbone e l'acciaio, le basi proprio dell'industria di base, e la ripartenza delle materie prime, fondamentali poi come utilizzo anche per tutti gli altri settori produttivi ed industriali. Primo vero passo per il processo di integrazione europea, creare un mercato comune del carbone e dell'acciaio, con un libero accesso alle fonti di produzione, con un controllo di prezzi, di produzione. Senza tutto questo, l'Italia, poverissima da questo punto di vista, di ferro e di carbone, mai sarebbe potuta ripartire. Quindi ecco, intescambiassi tutto questo. Ad esempio, molti, molti dei nostri contadini, delle nostre regioni del sud e non sono, andarono dove? Nel nord Europa, a lavorare un processo di emigrazione europea, questa volta per trovare lavoro in tutto il centro nord Europa. Si andava in Svizzera, si andava in Germania, si andava in Belgio, in Lussemburgo, in Francia, a fare cosa? Beh, prima di tutto a lavorare nelle miniere, poi a fare tutti e mille altri lavori che fanno gli emigrati, lo sapevamo benissimo, ma prima di tutto c'era il bisogno, lì c'erano le miniere di ferro e di carbone, serviva la mano d'opera, arrivava dal sud Europa, molti di questi erano contadini italiani. Un cambio, ne avevamo appunto queste materie prime, a un prezzo più vantaggioso le avevamo, ma a un prezzo più vantaggioso. Questo era quello che era all'epoca, ma il vero punto di partenza, che ancora oggi viene ricordato. Nel 2017 è stato ricordato anche, in grande stile, appunto il decennale, il sesto decennale, in realtà, 25 marzo del 1957, l'inizio di tutto, l'inizio di tutto, di quella molte volte problematica, noi ben sappiamo, quelle che sono le critiche, così via, è chiaro che molte volte non va bene l'Unione Europea, così come oggi, ma senza di esso, noi saremmo molto più indietro, molto peggio, perché siamo deboli, abbiamo bisogno in qualche modo di allargare i nostri confini, poi è chiaro che ci sono mille problemi, ma senza di esso, noi non potremmo essere in qualche modo dei protagonisti di quello che è il sistema globale mondiale di oggi. Ecco che allora siamo a Roma, ma sono i famosi trattati di Roma, la nascita fondamentalmente del processo di unificazione europea. Avvenne a Roma, Italia, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Belgio, Lando e Lissomburgo firmano i trattati di Roma per creare che cosa? La Comunità Europea per l'energia atomica, poi con tutti i problemi che ne sono nati, in realtà l'Italia si è tirata fuori, ma diciamo così, lo sviluppo dell'energia atomica come, diciamo così, produttrice di energia, nel senso pacifico, per in qualche modo sostenere lo sviluppo industriale. Noi abbiamo rifiutato, naturalmente anche giustamente, tutto questo. Non dimentichiamo che però, ad esempio, in Francia, in Svizzera, cioè nei nostri confini, le centrali nucleari continuano a produrre energia. Se succedesse un qualcosa, noi saremmo direttamente coinvolti, lo sappiamo, e indipendentemente da questo, molta dell'energia che noi oggi consumiamo viene prodotta all'estero, viene prodotta dalle centrali francesi, ed è prodotta in questo modo, anche se noi non la produciamo, una scelta del popolo italiano. Quindi ecco, Euratoma per lo sfruttamento comune di energia atomica, i fisici italiani sono tra i migliori al mondo, non dimentichiamolo. E poi ecco il cuore nasce del tutto, nasce di un mercato comune europeo, la comunità economica europea, proprio per la creazione del MEC, Marketing European Common, come si diceva un ottomercato, comune europeo, la base dell'Unione, proprio di oggi con l'euro, e tutto questo per la graduale integrazione dei mercati economici, finanziari, del lavoro, l'inizio di una libera circolazione, di una progressiva integrazione, non ancora riuscita, questo bisogna dirlo, delle politiche fiscali e sociali, però l'inizio di tutto quello, l'inizio di quello che tutti i giovani conoscono, che parlano oggi perfettamente l'inglese, prendono tranquillamente, oggi magari un pochettino meno, gli aerei a basso costo, volando tranquillamente, vanno in giornata in Spagna, in Inghilterra, in Francia e tornano a casa come una volta si andava nella città vicina, a distanza, soltanto pochi chilometri, tranquillamente, parlano l'inglese, sfruttano il progetto Erasmus e così via, quindi tranquillamente vivono l'Europa, un patrimonio comune, culturale, fondamentale che dobbiamo curare, curare, non distruggere, curare, perché sia quello che doveva essere che magari non è stato, certo, è stato così, ma è fondamentale l'inizio dei trattati di Roma, 25 marzo del 1957, l'inizio di un'idea d'Europa che bisogna sostenere sempre di più. Proprio questo noi lo vediamo ancora. Diamo adesso qualche data, primo gennaio 1973, ecco che allora, lo sappiamo, la Gran Bretagna entra il primo gennaio 73 ponendo mille paletti che hanno reso ancora più difficile tutto questo, tant'è vero che se n'è andata, lo sappiamo benissimo, la Brexit, forse era destino che fosse così, diciamo che allora, visto che la Gran Bretagna non si è mai sentita realmente integrata all'interno del continente europeo, prendiamo questo che è stata una grave ferita, una grave ferita all'interno di questo processo che prima si era sempre arricchito di uomini, persone, idee, nazioni, adesso invece qualcuno che ha preferito andarsene. Diciamo che allora, visto questa posizione, visto molte volte i paletti, le difficoltà che l'Europa in qualche modo ha dovuto subire proprio per la difficoltà al tempo stesso, ecco, dell'Inghilterra di accettarlo, vediamo ecco che allora con lei che mai si sentiva bene integrata, adesso che non c'è più, vediamo allora quindi di velocizzarlo, renderlo più giusto, sfruttare questo non più come sconfitta ma come un vantaggio in un certo senso, fare in modo che coloro che adesso ci sono ancora davvero adesso agiscono in una maniera positiva. È un ideale, sappiamo che la realtà è ben diversa per mille motivi ma sfruttiamolo, su questo si deve partire, lavorare perché questo avvenga, perché tutto ciò che non va bene invece diventa un elemento positivo. L'Irlanda e la Danimarca ci sono ancora e sono ben contenti e ben convinti di esserci e quindi di partecipare a quello che poi è stata, diciamo così, la radice dell'euro, il sistema monetario europeo che aveva come scopo quello di raggiungere prima un'unità soltanto virtuale come un'unità di conto. L'EQ poi è diventata una moneta sonante che è entrata in mezzo a mille polemiche all'interno potremmo dire dei portafogli della gran parte non di tutti i paesi che aderiscono all'Unione Europea ma di molti di questi l'Italia e fra questi dal primo gennaio del 99 una moneta reale. La gran parte dei giovani del giorno oggi sono nati e hanno sempre vissuto con l'euro non si ricordano più neanche cosa sia la Lira, il Franco, il Marco. Prendiamolo sempre come un elemento positivo non con tutte le difficoltà reali che ancora esistono e qua dal 7 al 10 giugno del 1979 anche il Parlamento Europeo è diventato una realtà. Esisteva anche prima ma era espressione dei Parlamenti non veniva votato direttamente dal popolo europeo. Dal 7 al 10 giugno del 1979 per la prima volta è stato votato dai cittadini europei. facciamo che sia un qualcosa che sia appunto uno strumento positivo non come è vero molte volte ancora oggi capita un'ennesima burocrazia che va a sommarsi sulle burocrazie locali centrali dei singoli paesi. È chiaro che questo è un rischio è chiaro che questa è una difficoltà le difficoltà ci sono come anche con l'ingresso dei paesi dell'estero europeo fondamentali in funzione strategica e politica antirussa questa è la realtà ma anche per allargare un mercato comune che doveva essere più ampio ma sappiamo che questo è molto duro difficile molte volte alcuni paesi europei hanno anche tradizioni culturali e politiche diverse alcuni paesi qua facciamo nomi cognomi l'Ungheria e la Polonia hanno ancora oggi o prendono decisioni votano leggi che non sono ispirate ai principi liberali e democratici per cui è obbligatorio a cui è obbligatorio aderire per essere all'interno dell'Unione Europea lottiamo perché queste cose non ci sono più invece magari di ispirarci a questi modelli e volerle diffondere sono antiliberali sono antidemocratici alcune di queste leggi che sono state votate dai governi di questi paesi lo dobbiamo far sì perché l'idea liberale democratica si allarghi sempre di più altrimenti la lotta contro il nazifascismo da un lato e la lotta contro il modello sovietico dall'altro davvero non sarebbe servita a niente il processo di unificazione europea i primi sviluppi e le prime difficoltà